Austin, circuito nuovo con variazioni altimetriche che alterna un tratto misto lento a zone estremamente veloci. Curve 4, 5 e 6, rapida sequenza di cambi di direzione, staccata curva 11, violenta decelerazione. Tratto misto con curve lente e tornanti a 180 gradi. Curve 4, 5 e 6, destra, sinistra, destra. Il pneumatico sollecitato in laterale deve garantire assoluta precisione di guida per assicurare al pilota il mantenimento della traiettoria ideale. Curva 11, il pilota affronta la frenata con la monoposta ancora in appoggio laterale che determina la distribuzione del carico non omogenea e rende critica la fase di staccata. L'ottima aderenza del battistrada in temperatura consente comunque di massimizzare la capacità frenante e l'inserimento in curva. Tratto misto, bassa velocità e marce corte rendono impegnativa la gestione della monoposto soprattutto in trazione in uscita di curva. Il pneumatico partecipa attivamente a migliorare il livello di grip aiutando il pilota in accedere accelerazione. Alte temperature attese e severità del tracciato, Pirelli propone le mescole hard e media che assicurano la miglior combinazione di prestazione e durata per affrontare le caratteristiche di questo circuito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.